Ben ritrovati a tutti quanti i miei amici del Terme Paddle Center di Viterbo Siamo qui con il grande Checco Dopo una grande partita e una grande vittoria Allora, che ci dici di questa partita? Com'è andata? Oggi è andata la grande La musichetta della Champions Provoca quelle emozioni Quindi grande vittoria all'esordio Checco Vincini, liquidato di Deca Ma 6-0-6-3 ho visto Ha bersato abbastanza fiacchi Avevo anche i cannelloni sullo stomaco Ho giocato da fermo per vincere questa partita Ringrazia il tuo coppio Oggi ho rivisto un grande Piccini Che possiamo anche inquadrarlo Eccolo qui La musichetta della Champions Devo dire Ma mi ha tirato fuori il meglio Però adesso abbiamo un'altra partita Non è finita qua Adesso abbiamo un'altra partita Contro Fabione e il suo compagno Stasera c'è un grande rinvento anche dei Ciccarelli Una partita di Champions Ciccarelli Le ultime notizie Dicono che rientrerà in campo Non si sa La batossa l'ha presa Forte Forse è stata quella che gli ha provocato Sto virus Il virus checco Il virus checco Il popo checco Vediamo un attimo Ma lo vedo tanto Tanto in difficoltà Quindi stasera come prevede Lui una partita? La prevedo I sfidanti Mia Pecci Prevedo un'altra sonora sconfitta Per Ciccarelli E poi niente Gli concederò un amico Io se vuole Nel fine settimana Domenica A meno che rovino pure la domenica Va benissimo Senti invece un saluto Dall'Italia all'Argentina Al nostro Gigi Totaro Il grande Gigi Totaro Purtroppo sconfitta Amara contro Contro Biscetti Grancio Però Totaro Adesso oggi Ho saputo che stava qui Alle grotte Stava a fare la sauna Stava in ripresa Il relax Il relax Si stava riprendendo Perché domani ha un match Che lo aspetta Mi sembra con Peruzzi Gigi Totaro è sempre il numero uno L'importante Che ha battuto Sempre il solito Ciccarelli Quello ormai rimane nella social Va benissimo Grazie Checco Prego Ciao